non si usa se piove vabbè tanto è tutto imballato insomma noi cosa dovremmo fare? come va lì? come va lì? come va lì? a me la senti luce ce la fa ancora lì l'amore di almonaccio non ti si vede la scritta? ci è arrivato in contemporanea che cosa carina è la vicino alla cosa dei anche diamo la mano al ragazzo a scaricare non siamo lì così ok dopo questo poi lo porti in canile lo attacco in sgambatura fai un po' di cinema mi raccomando tranquillo lo mettiamo lì all'entrata ragazzi ci vogliamo quei adatti ora vediamo in questo caso non ci fate spazi in ultimè non ci fate spazi in ultimè da scuola la morena non ci fate stai ma si finti avanti avanti Grazie, dovrebbe girare? Dai, trappate Oh, arriva Oh, arriva Dobbiamo fare qua prima roba Vitto, vitto Avanti Ah, vitto Dai, salto penso qua non sbocchiamo Ah, ci sono due qua Oh Sì 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 Stiamo riempiendo E' bello che noi siamo quattro persone con le pettorine in mezzo a campagna Insomma cosa fanno questi terremotati, è vero? Sì, queste le lascio perché sono tozze Quante le abbiamo scaricate? Questo qua? Questo qua adesso lasciamo lì Le tozze le regalo eh Non è successo? Buonasera Questa è attrezzata E' attrezzatissimo C'è anche un cockerum? Un cockerum adesso esatteremo eh Un cockerum Sul mercato per gli animali Quello ha fatto anche meglio però Questo è considerato proprio A costa Non dirmi a portare il cibo umano Stava per dire no? No 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 Cibo umano no Un po' diverso però Sì sì Questa costa 2-3 euro Un paio di euro Di sicuro All'ingrosso vabbè Non lo so ma Sui balconi così del supermercato Costa 3 euro e venti questa qua Fai i tuoi chili Adesso Adesso Capisco perché ogni tanto Ci sono gli animali Abbandonati No ci sono anche quelle Questi li portiamo poi al canile Perché abbiamo 3 canili Io vado di denti perché nonno Sono abituata a dar di denti Lo devi fare E' attaccarlo? Più o meno basta che sia E' attaccarlo Lo metto un po' nel bar Digo eh E' bambio Esi Non ho l'abbè Sì hai Ehi l'abbè Si la cittadina c'è fare un lavoro qua prima della famosa, senza migliorare la cantina, ma invenga, ecco. Si, quell'essimo, quell'essimo. Quello, come l'avevo già fatto prima, ha rifiutato, perché l'altro poverino l'abbiamo dovuto rientrare. Verranno delle peccate di cedra, l'acqua, la città le cedre, l'acqua rompa. Ci vediamo rapidamente perché, vabbè, l'acqua qui ci sono sicilate, cominci a arrivare l'acqua e questo portore qua, la mazzese da, no, ci sono i vaticani, i McConnell e i Cuomo. Questo è il 5 milioni di gioco, non possiamo scaricare i soldi a parte, perché niente più Hai preso il bambino? Hai preso il bambino? No, ma questo tutto è veramente lato Che è piuttosto bene Così hanno più giocati e le hanno più rispondi No, non è così Una volta, non è così Ah, vai, no Giriamo Non c'è girare Nuovo Non c'è Non c'è Questa è il penultimo che dobbiamo scaricare? Sì, il penultimo. Grande! Questa è un senso. Questa è un senso. Questa è un senso.